Ben trovati da Tg della mobilità. Proseguono i lavori su Lungotevere a Ventino, da Piazza Bocca della Verità a Piazza dell'Emporio. Il cantiere è impegnato sulla manutenzione del manto stradale e terminerà domani. Ancora oggi sono deviate le linee di bus 30, 170, 716, 781 e di notte NME e N716. Nel quartiere Parioli è in corso un intervento sul manto stradale di Via dell'Agonistica. Il cantiere proseguirà sino all'11 marzo con una pausa nel fine settimana, negli stessi giorni deviata la linea 52D in arrivo da Via Archimede. Domani sera dalle 20 alle 21, possibili chiusure al traffico nell'area di Piazza Santa Maria Consolatrice, dove si svolgerà una manifestazione per l'Ucraina. Prevista la partecipazione di 400 persone. Tutto per questa edizione.